Ciao a tutti da Cristian TJ, salutatore del blog, grandissima sorpresa, Banco, muto pronto soccorso, ecco qui di Giacomo Francesco che ha una sorpresa per tutti. Saluto gli amici dagli anni 70, saluto chi ha vissuto quel periodo e anche chi non l'ha vissuto e i giovani che ci sono ai nostri concetti. Ciao. Un salutone, ti ringrazio e salutavo tutti gli amici di YouTube, MySpace, Facebook e Twitter. E il kit è barato. Grande!